Messaggi di domenica 13 ottobre 2024 Oliveto Citra, Salerno Fratelli, sorelle, siamo noi, i tre pastorelli di Fatima, io, Lucia, Giacinta e Francisco. Abbiamo assistito a un grande miracolo che non si è mai più ripetuto, ma io vi dico che si ripeterà nei tempi futuri. Il mondo vivrà ancora il miracolo del sole, ma non tutti lo vedranno. Sarà concesso a chi crederà a Fatima, a chi crederà al messaggio che Nostra Signora ci ha donato, messaggio di salvezza. Il suo contenuto parla del futuro dell'umanità, dei castighi, della purificazione, degli avvenimenti che vi saranno. Parla di cose anche già accadute che vi sono state nascoste. Quella notte non ho dormito, come capitava molto spesso quando Nostra Signora mi doveva apparire. L'attesa mi teneva agitata. Non vedevo l'ora di incontrare Giacinta e Francisco. Appena li ho visti, ci siamo subito presi per mano. Ho detto loro, promettetemi che qualsiasi cosa accade, noi rimaniamo uniti. Avevo paura, anche se Nostra Signora non ci aveva mai delusi. C'erano molte persone, ovunque mi giravo. Mi chiamavano, chiamavano Giacinta, chiamavano Francisco. Volevano toccarci. Ero felice, ma la paura era più forte della gioia. Iniziai a correre verso la cova. I miei genitori erano con me quel giorno. Mi hanno protetta. Arrivati alla cova, le persone cantavano, pregavano, ma Nostra Signora ancora non arrivava. Giacinta mi stringeva la mano, Francisco mi accarezzava. Loro erano la mia forza. Passò un po' di tempo, ma a me non pesava. Nostra Signora sarebbe arrivata come ci aveva promesso, ma molte persone andarono via. All'improvviso, prima che la Signora appariva, un enorme fuoco che avvolgeva tutta la cova, le ali immense, era l'Arcangelo Uriel. Mi faceva segno di guardare il sole e all'improvviso iniziò il miracolo. Il sole iniziò a danzare. La gente gridava, temeva che gli cadeva addosso tanto che si era avvicinato a tutti noi. Quel miracolo fu avvertito anche nei paesi vicini. Giacinta notò una cosa molto importante per riferire a tutti quelli che erano presenti. Fratelline, sorelline, quel giorno Nostra Signora donò quel grandissimo segno. Nostra Signora ci apparì nell'ora in cui fu crocifisso suo figlio. Prima che il sole danzava, un forte temporale bagnò tutti i presenti. Tante erano le persone che urlavano dicendo che era tutto falso. Alcune persone che non credevano. Si trovarono i loro vestiti asciugati. Nel cielo apparve una croce. Noi eravamo felici. Ma nello stesso tempo avevamo molta paura. Perché ci fidavamo di ciò che ci diceva Nostra Signora. Questo miracolo è la grande misericordia di Dio che ha per il mondo. Fratelline, sorelline, quel giorno è stato per noi l'inizio delle grandi conferme che il cielo stava donando al mondo. Nostro Signore ha donato il segno della Sua grande misericordia attraverso il sole. Il sole illumina tutti i Suoi figli buoni e cattivi. Illumina i poveri peccatori che non sanno quello che fanno. Questo ce lo diceva Nostra Signora. La gente cominciò a gridare di gioia per il prodigio che stava accadendo. Tutti cercavano di avvicinarsi a noi. La cova era gremita. Non c'era spazio. Eravamo tutti abbracciati. Arrivò Nostra Signora e parlò a Lucia. Figlia mia mi disse. Il mondo dovrà ricordare questo giorno. Perché esso servirà per avere fede in Dio Padre. Perché il mondo dovrà affrontare momenti difficili. La purificazione avverrà attraverso il fuoco. Avverrà attraverso l'acqua. Le nazioni scompariranno. La paura sarà tanta appunto che molti miei figli moriranno. L'Apocalisse parla del futuro dell'umanità. Chi è ai vertici della Chiesa lo sa. Perché molte cose non sono ancora accadute. Figlia mia. Anche loro tradiranno mio figlio Gesù. Ripudiano i Suoi insegnamenti. Portando avanti regole contro la legge di Nostro Signore. Ci vorrà molta purificazione. Ecco perché i castighi saranno inevitabili. L'inferno, come vi ho mostrato, sta aspettando che si riempi. Ma io non voglio questo. Voglio la salvezza. Perché le anime sono buone. Sono state create da Dio Padre, Nostro Signore. Lucifero ha preso possesso nelle alte sfere e continuerà nel futuro a governare senza freno, rendendo le anime indegne, portando le anime alla perdizione. Lucifero farà in modo che la verità sarà coperta dalla menzogna. Tutto si metterà in dubbio. La natura sarà modificata dall'intelligenza dell'uomo, quella che gli ha donato Lucifero. Le anime si ammaleranno e nasconderanno le cure. Figlia mia, ecco perché l'intervento sarà inevitabile e tu, Lucia, porterai il mio messaggio dentro e fuori la Chiesa. Giacinto e Francisco ti accompagneranno sempre. Il mondo subirà una trasformazione. Passerà dalla luce alle tenebre e dopo un poco dalle tenebre alla luce. Io avviserò tutti e tu mi aiuterai. Fratelli, sorelle, inutile dirvi che tutto questo mi riempiva di timore, ma volevo essere utile per Nostra Signora che ci aveva donato tanto fidandosi di noi. Quel giorno guarirono molte anime nel corpo e nello spirito. I ciechi acquistarono la vista. I sordi udirono. I zoppi tornarono a camminare. Quando finì il miracolo furono tutti colmi di gioia al punto di abbracciarsi, baciarsi, sorridevano, facevano la loro testimonianza l'uno con l'altro. Il paese fu sconvolto. Anche i paesi intorni furono toccati dal sole. Molti segni ebbero nelle loro case. Il sole penetrava ovunque asciugando tutto quello che era bagnato. Il colore del cielo cambiava continuamente. Molti arcobaleni si sono visti in quel giorno. Per la gente era tutto magico. Nessuno potette negare della presenza di Nostra Signora. Noi, quando tutto terminò, ci mettemmo a cantare. Ci siamo abbracciati. Grazie Maria. Grazie Maria. Grazie Maria. Grazie Maria. Cantate tutti. Fratelli e sorelle, non abbiamo visto solo questo. Quel giorno abbiamo visto molto di più. Presto ve lo racconteremo. Giacinta e Francisco vogliono ancora parlarvi. Fratelline e sorelle, il mondo fu sconvolto da ciò che accadde quel giorno. Da quel giorno le apparizioni di Nostra Signora in pubblico terminarono, perché la nostra missione, mia e quella di Francisco, stava per terminare in questo mondo. La cosa più importante che Nostra Signora desiderava dire al mondo, c'era già stata rivelata. Ed era il terzo segreto. Quel giorno io promise a Nostra Signora che a qualunque costo l'avrei rivelato. Fratelline e soreline, pregate tanto. L'inferno esiste ed è bruttissimo. Pregate per molti consagrati. Ne ho visti tanti lì, quando Nostra Signora mi mostrava l'inferno. Al mio fianco erano sempre presenti gli arcangeli. Loro ci proteggevano giorno e notte. Nostra Signora ci ha fatto vivere nella Sua grazia. Non finiremo mai di ringraziarla. Questo per noi è stato un grande dono. Comprendetelo anche voi, la grazia che vi fa vivere Nostra Signora. Dimostrategli che l'amate anche con piccoli sacrifici, come ci chiedeva sempre lei. Anche noi nel mondo avevamo molte sofferenze, ma Nostra Signora ci aiutava a superare ogni cosa. Lei era ed è la nostra mamma. Fratellini e sorelline, quando quel giorno giunse al termine, io insieme a Giacinta e Lucia, offrimmo molte preghiere a Nostra Signora, per ringraziarla di tutto ciò che ci aveva donato. Ringraziate anche voi il cielo sempre. Vi è stato rivelato il futuro dell'umanità nel sagreto di Fatima. Siate responsabili. Noi lo siamo stati fino alla fine e ancora oggi aiutiamo Nostra Signora. Fratellini e sorelline, il mondo vivrà l'Apocalisse, come ci ha rivelato Nostra Signora. Abbiate fede e tanta forza. La protezione degli Arcangeli è per tutti quelli che onorano la Santissima Trinità attraverso la legge santa. Vi amo. Fratelli e sorelle, quando tutto terminò, fui attratta a guardare ancora quel punto dove il sole sembrava di cadere. Rividi l'Arcangelo Urielle, che ancora una volta mi mostrò dove sarebbe stata costruita la cappella in onore di Nostra Signora. Questo accadde un poco dopo. Molte persone che furono toccate diedero il loro contributo per realizzare la volontà di Nostra Signora, per accogliere le anime che nel futuro dovevano giungere lì. Fratelli e sorelle, anche qui sarà costruita una cappella in onore di Nostra Signora. Nostra Signora dell'Apocalisse. Nostra Signora del Sole. Questo sarà il suo ultimo punto di riferimento per avvisare l'umanità, per guidare tutte le anime che vorranno seguire la sua voce. Devo andare. Prima desidero che tutti insieme onoriamo Nostro Signore. Alzate le braccia al sole. Tutti insieme recitate un Padre Nostro. Lodate Nostro Signore cantando il Padre Nostro. Adesso ripetete nei vostri cuori. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro panne quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Fratelli e sorelle, dobbiamo andare. Nostra Signora vi sta donando la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nostra Signora è con me e con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e del Figlio e del Figlio.